Il GLADIR ha tanti impegni in un periodo molto intenso, tante partite ravvicinate, adesso arriva il match contro Verona, non è semplice giocare tanti match uno dopo l'altro, come state facendo voi? Tu hai detto che è molto difficile da giocare per giocare, ma non credo che ci siamo da qualche anno che il volley è in questo modo, giocare per giocare per giocare per giocare in ogni settimana, in questi 5 giochi non giocare bene come vogliamo, e possiamo dire solo scusate per i nostri amici che venivano qui per supportare noi, per sicuramente cerchiamo di fare il nostro meglio, e domani, nel gioco con Verona, cerchiamo di vincere il primo gioco della season. Hai fornito nelle ultime partite buone prestazioni e il tuo feeling con Saeed Marouf sembra crescere gara dopo gara? Sì, funziona così, siamo ancora un mese insieme, quindi tutti i sentimenti con Saeed, con tutti, non sono perfetti per il momento. Stiamo lavorando tutti i giorni sulle pratiche per farlo meglio, quindi come tu hai detto, gioco per gioco, spero, spero che sia molto bene. Prossima partita contro Verona, considerazioni di questo match? Questo gioco sarà diverso da altri gioco, perché, in mia opinion, Verona è anche come noi, un nuovo team, solo pochi giocatori arrivano da l'ultimo anno e hanno, come noi, anche noi, tutti i nostri giocatori, che non hanno fatto bene la loro parte, ma nel momento che hanno più di più di noi, infortunatamente. So, tomorrow we are going hard to make it happen, the first victory of the season.